Le acque del fiume Sangro e del lago di Barrea nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono in condizioni letteralmente indecenti e l'allarme è lanciato dal forum H2O e dalla stazione ornitologica abruzzese SOA che nel corso di una conferenza stampa a Pescara hanno anche mostrato una galleria di immagini fotografiche e un video per documentare lo scempio che sta avvenendo da mesi in un'area protetta di importanza mondiale. Sulla vicenda la SOA ha anche presentato un esposto alla procura di Sulmona dove denuncia numerose omissioni e inadempienze ed evidenzia la sussistenza di gravissimi fenomeni di inquinamento ambientale anche di habitat protetti a livello comunitario per il quale è stato introdotto qualche anno fa uno specifico reato. In particolare gli ambientalisti dopo aver ricordato di aver presentato un primo esposto il 25 luglio scorso su discariche nel lago di Barrea e sul fatto che in questo corpo idrico pur non individuato dalla regione Abruzzo quale area di balneazione tantissime persone facevano il bagno regolarmente. Hanno raccontato inoltre di aver fatto un sopralluogo il 27 agosto scorso sia su diversi punti del lago di Barrea sia a Pescasseroli sul Sangro per il quale nel frattempo erano arrivate altre segnalazioni. Secondo SOA e Forum H2O l'Italia rischia una nuova pesantissima condanna da milioni di euro visto che la sentenza della Corte di Giustizia del 2014 sulla depurazione ha riguardato anche Pescasseroli il cui sistema di depurazione copre una minima parte della popolazione. L'intervento dell'Europa non sembra aver sortito alcun effetto. Augusto De Santis. In un luogo che dovrebbe essere protetto a livello mondiale, almeno sulla carta, abbiamo trovato scarichi vergognosi. Addirittura a valle di Pescasseroli il fiume Sangro è totalmente costituito da sostanzialmente liquami di fogna, l'intero alveo e una puzza nauseabonda che ha raggiunto centinaia di metri in una situazione da quarto mondo in un parco nazionale. Anche il depuratore di Barrea che non funziona c'è lo scarico, il fosso a valle del depuratore che si presenta in condizioni pietose, dire poco, con schiuma e altre escrescenze. È una situazione incredibile in un parco nazionale protetto a tutti i livelli. Ovviamente noi abbiamo fatto gli esposti, però abbiamo anche rifidato gli enti, in primis dall'ente parco, i comuni, a fermare questa situazione che certo non può andare avanti. Il fatto che il depuratore di Barrea e quello di Pescasseroli sia noto che non funzionano tanto bene, non è che permette poi, giustifiche il fatto che possono continuare a scaricare. Prendono le autobotti e vanno a scaricare in depuratori che invece funzionano.